Musica sapevo e stiamo mettendo un po' Dai, confini da solo Dai, l'ultima, l'ultima, dai, l'ultima, dai Giornali per smir fronte Voce, eh, voce Gn'è più di minorelli di una volta che avrò a parlare di un po' di me e si vede a parlare di un po' di me ma ti fai mai scelto a lei che ti guardo e non ti scelto e ti chiede a guardare e ti ha detto che non si sapeva non si sapeva e non si sapeva ma non si sapeva ma si sapeva ma adesso vedo, prepariamo la signora che c'è quello che vuol sanno, adesso mi metto bene, e la stacca tirano fuori, e le stacca è mia. Allora ho detto, quando ho detto, non ho detto, la stacca è mia, ho detto, ho detto, ho detto, la stacca è mia, ma cosa fa il dottore? Ora ho detto, ho detto, ho detto, la stacca è mia. No, ma questo è il dottore? No, la stacca è mia, la stacca è mia, la stacca è una stracca, non, vieni, vieni, non, vieni, il masch tu mimi sai che il masch è sempre che allora il masch con la scisola che ti raviti il punisce le test e poi l'amidete l'amidete la gabbietta ahahahah ahahah ahahah a la mattina passano passano con la valigetta e che fanno riferente riferente per esempio una volta che fanno il circo l'amidete ahahahahah ahahah riferente 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 vieni qua vieni qua dai Livio di Lutma facciamo il pinu se no c'è un piccolo allora anche voi si aveva una pianta di serena però era gelosa quando c'era la scala e tutti ora guardavano la ciro il giro al vado a due piedi e poi c'era la scala e cattino una barca al vado sui piene e dice per la borsa che fanno che dice che dice che dice che dice che dice io mi fanno il mutlo ahahahahah 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 ahahahah è bellissimo il pappagallo è bravo intelligente edificato allora le lascio che bello dammi le zampine Tu mima? Dammi che l'altra c'è questo è peccolo già dopo. Che cosa fa che stai spesso a lasciare la zappa e le pulle? Sì. Ma l'ha reso? Beh, se, ragazza, andami a me. Se ce che sta vedendo dove stai spesso? Beh, se lo faccia poi, ma quando stai spesso e cei se stai spesso. Si sto con te o peple. Si sta con te o peple. Si sta con te o peple. la sua lì è orata due soli pose aова la legazione del Papa e ora però la говорю Д beast e poi avrà sempre murito sia vicino allora adesso sento il Quadri e voi ordinammati la scuola le donne altri che in vain quand vado in Roma sarebbe Six Sì, la sua! Il papi, tu sai che io ne abbiamo stimolato, sei dato per te, adesso cosa facciamo? E dai non sai del ballo se vuole così! Faccio che il preto che se l'ha morto eh! Lì, lì! Guardate, voglio il viagra! Faccio! No, non c'è nulla del viagra! Non c'è nulla del viagra! Non c'è nulla del viagra! E poi va da farmacista che dice la messaggio del Mario Vivusso che dice sei cuscatoli del viagra Ma no, ti serve a me! Ma lei treva un pullman da Svizzera e lui fa i ferro tutti! Lei dà una sei cuscatoli! Poi, che poi si sono un pull, dà una cosa addirittura! Per sicuro! Ma no, ci sono, ci sono i cucchi! E n'è nè 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 nè! E il giorno dopo, il torno di farmacia e il vada a te! Col ma a te! Farmacista che cosa è successo? Grazie! Grazie!